Il racconto della ricostruzione, uno dei temi nuovi di Officina all'Aquila edizione 2018, il racconto dell'Aquila da diverse prospettive che confluirà anche in un volume edito da Cazza per il decennale del sisma. Attorno ad un tavolo Flavia Coccia, direttrice scientifica di Isnart, il professor Lelio Iapadre dell'Atene Aquilano, Roberto Di Vincenzo, coordinatore di Officina, moderati dal giornalista Oscar Bonamano. Per attrarre persone in un racconto della città bisogna cominciare a capire che le persone che ci leggono, o a cui raccontiamo le cose, sono differenti e quindi possono avere passioni e motivi differenti per essere interessati e incuriositi dall'Aquila e da questa ripartenza della città. E quindi occorre cominciare a capire che un monumento da solo racconta solo magari ad alcuni, racconta la cittadinanza ma non racconta a chi lo vede da fuori, da quello che può dire è bello, ma il bello non basta. Allora bisogna per raccontare la sua storia, magari chi è interessato alla sua storia, i sospetti tecnici di storia dell'architettura, di storia dell'arte, a chi è un esperto di storia dell'arte e dell'architettura, a chi invece vorrebbe solo sapere l'aneddoto, a chi si vuole invece solamente sapere la storia rispetto a quanto è stato importante per la città. Sono tutti livelli e piani di racconto differenti che con le tecnologie adesso possiamo fare e vanno utilizzati per ampliare l'opportunità che l'Aquila diventi sempre più al centro dell'attenzione di un popolo mondiale interessato e incuriosito sicuramente dall'Italia ma sicuramente anche da questa città. Il professor Lelio Iapadri ha parlato anche del contributo molto importante dell'Aquila città della conoscenza rappresentato oggi in maniera egregia dalla sinergia vincente tra Ateneo e Gran Sasso Science Institute. A mio avviso è fondamentale, quando fu annunciata l'idea di creare una scuola di dottorato internazionale all'Aquila c'era molta diffidenza anche all'interno del mio Ateneo, c'era il timore che venissero sottratte risorse alla crescita dell'Ateneo, c'era il timore di possibile concorrenza nell'attrazione di docenti e di studenti, ma sono tutti falsi timori. Dovunque si sia creata una situazione simile a questa, a Pisa come a Trieste, le università e gli istituti di istruzione superiore collaborano in modo perfetto, hanno funzioni diverse da svolgere, ognuno cerca di fare al meglio il suo mestiere. Quando si parla di sistema locale di innovazione si dice di solito che è il vero motore della crescita di un territorio, un sistema locale di innovazione è fatto di imprese in primo luogo capaci di innovare, ma anche di centri di ricerca, più ce ne sono e meglio è. Le cose stanno andando bene, ovviamente qualche problema qua e là può sorgere, però nel complesso mi sembra una bellissima squadra.